L'accusa è terrorismo. Il foreign fighter nato in Italia 24 anni è stato arrestato in Turchia perché sospettato di avere combattuto con gruppi legati ad Al-Qaeda. È stato lui a chiedere di potersi consegnare alle autorità italiane. Gli uomini dell'antiterrorismo, dell'Aise e della Digos di Pescara sono così andati nei pressi del confine siriano per catturarlo e trasferirlo nel nostro paese dove adesso è in carcere. Le accuse sono associazione con finalità di terrorismo internazionale, arruolamento e istigazione a commettere crimini legati al terrorismo. L'indagine iniziata nel 2015 dalla Digos di Pescara è stata coordinata dalla procura dell'Aquila. Il 24enne, che si era trasferito in Svizzera con la famiglia, si è convertito all'Islam da minorenne e successivamente ha iniziato un percorso di radicalizzazione. Divenuto jihadista nel 2014, ha raggiunto il Medio Oriente e aderito ad una formazione legata ad Al-Qaeda per la quale ha combattuto e reclutato lupi solitari. Assieme a lui anche la moglie, una cittadina turca dalla quale ha avuto tre figli rimasti tutti insieme in Turchia per volontà della donna e del 24enne arrestato.